Io ricordo la prima volta che ho pianto davanti ai miei figli, l'ho fatto davanti a una figura di cura più anziana che mi prende da parte spaventata e mi dice non si piange davanti ai bambini e io ci ho creduto, mi sono sentita un attimo incolpissima, terribile, sbagliatissima cosa faranno i miei figli e poi ho detto no, ma io ti voglio far vedere che mamma oggi è stanca e oggi mi faccio pure un pianto e lo faccio pure davanti a te perché io ti insegno che le emozioni esistono tutte e vanno tutte bene La maternità si presta spesso a mitizzazioni, stereotipi e polarizzazioni a noi così va troppo stretta e quindi abbiamo deciso di provare a raccontare la nostra verità una verità sulla maternità che non è mai semplice ma è sempre variegata, complessa, nuda e a volte anche un po' cruda Io sono Arianna, io sono Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo con Frida Ciao Margot, come stai? Ciao, bene, bene, grazie, felice di essere qui Noi ci siamo già conosciute perché con Frida abbiamo già fatto un contenuto proprio su questo tema e in realtà è stato proprio attraverso questo contenuto che ci siamo anche accorte da una parte che mentre ne stavamo parlando e quando abbiamo girato il video che avevamo tantissime cose da dire e da dirci sul senso di colpa materno e dall'altra che in realtà c'era anche un bisogno da parte della community stessa di parlare di più di questo tema quindi eccoci qui per riparlarne di nuovo oggi e la prima cosa che ti vorrei chiedere è secondo te da dove viene il nostro senso di colpa? Io penso che venga da talmente tanto lontano che faccia quasi ormai parte come se fosse un altro organo del nostro sistema corpo, cioè ci nasciamo mi sono chiesta anch'io no ma perché questa cosa è così infilata e incastrata dentro di me questo veleno che si insinua dentro di te senza che te ne accorgi per via osmotica e tu ti ritrovi nei tuoi 40 anni con un bagaglio di senso di colpa di tutte le cose che non sono andate come sarebbero dovute andare che ogni giorno si ripropongono quando ti guardi allo specchio e dici ok anche oggi probabilmente non sono riuscita ad accontentare l'esterno e a entrare in quella perfezione che mi viene richiesta Forse ha senso che parliamo un attimo della matrice di genere che ha il senso di colpa perché ad esempio io sono diventata madre due anni fa però mi sentivo in colpa già prima di diventare madre ed è qualcosa che ho visto molto spesso in forme diverse ma sempre con una grande intensità più o meno in tutte le donne che fanno parte della mia vita affettiva e familiare e devo dire che l'ho vista di meno comunque con una forma un aspetto diverso negli uomini che invece hanno fatto parte della mia vita cosa pensi di questo aspetto? Sono pienamente d'accordo perché è stata la mia stessa esperienza di vita io sono cresciuta anch'io con questa sensazione che comunque io, mia madre, mia nonna avevamo un peso, una responsabilità diverse e che comunque non andavamo proprio bene cioè era proprio questa la sensazione non vai proprio bene bene c'è qualcosa in te che non è sufficiente che non è abbastanza noi non riusciamo ad avere lo spazio che dovremmo avere all'interno delle nostre vite ma siamo relegate a un ruolo che, come dire, genera vita certo, noi generiamo vita quindi, come dire, c'è un'attesa da parte nostra differente dobbiamo prenderci cura la donna si prende cura la donna accetta l'uomo aiuta l'uomo affinché esso possa lavorare lei sta a casa, lei lavora quindi ci sono tutte le nostre necessità che non sono ascoltate non sono accolte con una richiesta sulla nostra esistenza che è già, quindi, più breve, più corta più... come ci infilano in una scatola un po', no? stai in questa scatola dove devi essere la brava moglie la brava madre la brava figlia la brava donna e quindi io credo che sia un senso di colpa che viene dall'esterno ma che in qualche modo generiamo anche noi verso noi stesse cioè io mi sento in colpa con me stessa per non darmi quello di cui ho bisogno ecco, io invece mi reputo una persona non so se molto fortunata o molto ingenua perché per anni ho vissuto in una specie di bolla in cui questa gran differenza di genere ammetto di non averla sentita tanto ho un background familiare effettivamente un po' particolare di, chiamiamolo matriarcato comunque diciamo non è infrequente da generazioni e generazioni che nella mia famiglia sia solo la donna a lavorare questo ha generato una visione che è poi non coincidente con quella che è la società a un certo punto sono diventata madre e lì le differenze di genere mi sono state chiarissime improvvisamente non solo per quanto riguarda i ruoli madre-padre ma anche per quelle che sono veramente le aspettative le richieste che vengono fatte a noi non hanno uguali rispetto a quello che viene richiesto agli uomini e ai padri e questo è inevitabile che ci porti a essere sempre in affanno rispetto a quello che vorremmo e dovremmo essere e anche il rapporto con il lavoro è cambiato tantissimo sia io che mio marito siamo medici ma a un certo punto lui è diventato un medico che era anche papà e io sono diventata una mamma che era anche medico quindi per me il senso di colpa e il senso di inadeguatezza soprattutto sono potrei dire nate con la maternità mentre tu facevi riferimento a un'esperienza anche pregressa assolutamente io pensavo quindi di essere sbagliata inadeguata come donna quando sei diventata madre in che modo questo rapporto con te stessa filtrato attraverso il senso di colpa è cambiato se è cambiato perché ad esempio insomma mi ricordo molto bene uno dei contenuti che hai pubblicato sulla tua pagina Instagram nel formato tazza di me in cui si mette proprio in scena una scena tipica davanti a cui in cui una madre si trova spesso in cui sostanzialmente viene criticata dall'esterno o giudicata questo veniva proprio da un estratto della vita mia reale dove ero proprio al supermercato e avevo i miei figli che erano piccoli avevano l'età dei vostri quindi cioè proprio tenerli fermi madde che e stavano correndo in giro già c'erano quegli sguardi al supermercato di dire no ti guardano il bimbo matto poi ti guardano a te per dire ma cioè tienilo al guinzaglio ma signora cioè cosa come non sa fare la madre chiaramente perché il suo figlio non si sa comportare ha due anni e mezzo e comunque quindi avevo appena passato quella trincea di giudizio e lì era arrivata la cassa questa signora davanti si gira mi guarda questi bimbi che comunque appunto stavo cercando di tenere fermi senza molto successo e mi dice oh che meraviglia signora Seligodi questo è il momento più bello della sua vita e io in quel momento mi sono sentita nuovamente inadeguata no chiaramente io lo vedo dal punto di vista della signora era probabilmente una donna che aveva passato quella fase della vita i suoi figli erano grandi erano andati via di casa viveva tutto con malinconia lo vedo dai suoi occhi ma io in quel momento ero coi capelli dritti cioè quel giorno non mi ero manco fatta la doccia avevo ricevuto tutto sto giudizio questi non stavano fermi un attimo e stavo soltanto sperando che anzi lei si girasse e mi riprendesse così io potevo fare un attimo grazie invece non mi prende figli mi lancia questo senso di colpa rispetto a certo che questo momento è magico è meraviglioso ma il come dire il mio non riuscire a vivermelo come voi pensate che io me lo debba vivere di nuovo mi lancia in un senso di inadeguatezza e quindi semplicemente ho raccontato questa storia e i commenti che sono arrivati sono stati incredibili però vabbè se sei stanca potevi non farli i tuoi figli no? di cosa ti stai lamentando non capisco l'hai voluta te la bicicletta adesso pedala questo tipo di commenti in fondo cioè chiaramente ci sono rimasta male però io me lo aspettavo un po' che uscisse fuori e invece il non sentire che io posso dire la mia verità e dire io sono proprio stanca sì pur io siete di qui hai ragione è faticoso e questo è normale cioè non si riesce perché non ce lo concediamo non ce lo concediamo perché allora dobbiamo uscire fuori dal concetto di perfezione e questo fa paura io se posso aggiungere una cosa cioè la mia ansia da prestazione al parco con mio figlio raggiunge dei livelli altissimi perché io mi sento proprio osservata cioè io mi rendo conto che tra l'altro a volte ho anche paura di trasmetterla a lui anzi sicuramente gliela trasmetto e quindi la mia poi ansia aumenta ancora di più perché io guardo sempre lui cosa fa come si muove che giochi tocca chiedi fai che per un bambino oltretutto così piccolo di due anni io mi rendo conto che ogni tanto mi guarda come dire ma io non ho capito che cos'è che devo fare esattamente cioè perché mi stai così tanto addosso che magari a casa non lo fai o in altri contesti non lo fai perché io mi rendo conto che lo sguardo delle altre persone che sono lì che sono altre figure di cura o altre madri sostanzialmente mi mette molta mi preoccupa molto assolutamente ma è questo cioè non siamo libere di viverci la nostra maternità al nostro essere madri come noi sentiamo che dobbiamo vivercelo perché o arriva qualcuno che ti dice devi allattare per forza se no sei una madre di merda oppure arriva qualcun altro che te ne dice un'altra se non gli fai giocare con i giochi di legno non sei brava se gli fai guardare la tv non sei brava siamo imprigionate in queste aspettative esterne in questi giudizi esterni è difficilissimo un'altra gabbia nella quale siamo imprigionate è quella famosa frase del goditeli che dicevi perché ogni istante deve essere magico meraviglioso indimenticabile per noi e per loro perché tu stai costruendo il loro futuro quindi non ti puoi permettere di farti vedere stanche e arrabbiata se no si ricorderanno della mamma stanche e arrabbiata ma poi che cosa gli insegniamo veramente quando loro cresceranno e diventeranno i futuri donne e uomini madri e padri vogliamo veramente ridare a loro questo senso di colpa rispetto alle aspettative esterne ma io ti voglio far vedere che mamma oggi è stanca e oggi mi faccio pure un pianto e lo faccio pure davanti a te perché io ti insegno che le emozioni esistono tutte e vanno tutte bene più io mi sono spesso trovata e questo credo che sia diciamo in qualche modo un aspetto anche del senso di colpa e delle pressioni sociali esterne ad avere moltissima paura della tristezza moltissima paura della stanchezza moltissima paura dell'ammissione della stanchezza e della tristezza io ricordo la prima volta che ho pianto davanti ai miei figli l'ho fatto davanti a una figura di cura più anziana quindi appunto una donna quindi le passate generazioni e quello che parliamo anche di catene generazionali che si ripercuotono poi sul presente che mi prende da parte spaventata e mi dice non si piange davanti ai bambini e io ci ho creduto mi sono sentita un attimo incolpissima terribile sbagliatissima cosa faranno i miei figli e poi ho detto no io invece questa cosa la devo normalizzare proprio per tutto quello che abbiamo detto un'altra cosa che secondo me è importante normalizzare è il fatto che abbiamo tutte e tutti bisogno dei nostri spazi dei nostri tempi e quindi ad esempio all'inizio quando mi capitava di uscire non per andare al lavoro che ormai è una frase mamma va al lavoro ben accettata ma uscivo per andare in palestra o fuori con le amiche o a fare una passeggiata e mi veniva da dire tranquillo mamma va al lavoro perché sapevo che ormai quella mia assenza era nella sua testa già incasellata giustificata e poi mi sono detta ma perché no no cioè deve imparare che mamma fa anche altre cose che non siano o stare in casa o stare al lavoro ovviamente mio marito fa la stessa cosa però ho notato che per lui è stata una cosa molto più automatica non si è non ha percepito quella difficoltà che ho percepito io nel perdonarsi perché andava a fare una cosa che non era né il lavoro né stare a casa io di questa cosa appunto di cui parlava anche Sasha cioè della protezione dei tuoi spazi che non siano gli spazi che la società ha previsto per te come gli unici compatibili col tuo ruolo di madre quindi andare a lavorare è comunque anche quello spesso è oggetto di giudizio se torni a lavorare prima è perché torni a lavorare prima e se torni a lavorare dopo è perché torni a lavorare dopo senza neanche porsi diciamo il il problema che magari le persone devono tornare a lavorare prima oppure non possono tornare a lavorare prima perché non ci sono neanche dei sostegni poi istituzionali e statali che ti permettono di di tornarci quando in realtà vorresti e questo è un tema però io per esempio dicevo ho sempre avuto molto molta paura anche quando ero incinta di quello che sarebbe stato del mio spazio una volta che fosse nato mio figlio ne avevo parlato tanto col mio compagno mi è stato e mi è tuttora di grandissimo aiuto la nostra gestione familiare e domestica è totalmente divisa tra di noi una gestione molto paritaria anzi se posso sinceramente essere onesta probabilmente fa più cose lui di me che è una cosa che in alcune situazioni mi fa anche sentire in colpa con me stessa lui assolutamente non mi fa sentire in colpa ma soprattutto mi sono resa conto che questa è una fatica che abbiamo dovuto fare noi ma che assolutamente non ci è stata agevolata dall'esterno e dal modo in cui la società reagisce o ha reagito quando per esempio appunto come diceva Sasha io sono fuori sono fuori magari con le mie amiche e la domanda canonica è ma il bambino dove l'hai lasciato ma dove vuoi che l'abbia lasciato il bambino e poi soprattutto perché me lo stai chiedendo cioè stai dando per scontato che quindi se il bambino non è con me chissà cosa gli sarà mai successo ma sai cos'è è che sembra che tutto sia messo lì a indicarci che la madre è la principale responsabile dei figli a partire dal test di gravidanza in poi qualunque cosa con la scusa della presenza biologica del bambino che cresce dentro di noi il che è innegabile però il padre viene progressivamente escluso da tutto ciò che lo riguarda io e Arianna abbiamo vissuto entrambe la maternità nel periodo della pandemia in cui questo è stato particolarmente evidente perché i padri sono stati letteralmente cacciati fuori da qualunque tipo di controllo ecografico in gravidanza anche quelli magari più delicati dal parto stesso in molti casi dall'assistenza nel postpartum e questo oltre a aver provocato ovviamente dei disagi immensi nelle donne è stato molto offensivo nei confronti degli uomini che sono stati in qualche modo bollati come accompagnatori e il congedo di maternità stesso che per carità è una io l'ho avuto molto lungo come dipendente pubblica e mi rendo conto che sia un privilegio che tantissime donne non hanno però se ci pensiamo questa sproporzione immensa tra quelle categorie che hanno un congedo di maternità anche molto lunghe e quello inesistente o poco più che inesistente degli uomini acquisce ancora di più assolutamente e questo fa sì che nelle coppie magari anche quelle più paritarie prima di avere figli in qualche modo si favoriscano questi meccanismi per cui tu stai a casa sei pagata per stare a casa e quindi il tuo ruolo diventa quello di occuparti dei figli anche della casa e anche quando torni al lavoro ormai l'imprinting è stato dato il figlio è tuo rispetto a tutto quello che abbiamo detto oggi ho pensato a un monologo che ho visto poco fa in un film molto bello e che quindi volevo proporvi è un monologo che secondo me come dire racchiude un po' tutto sto discorso si chiama cioè il film si chiama storia di un matrimonio marriage story e questa parte qui questo è il monologo di questa avvocatessa che parla con la madre loro stanno parlando di separazione comunque lo trovo molto attinente i buoni padri sono stati inventati trent'anni fa prima i padri dovevano essere silenziosi e assenti e inaffidabili ed egoisti e possiamo dire che tutti li vogliamo diversi ma sostanzialmente li accettiamo e li amiamo per la loro fallibilità ma la gente assolutamente non accetta le stesse debolezze nelle madri strutturalmente non accettiamo i fallimenti delle madri e non lo accettiamo spiritualmente perché è la base della nostra cultura giudeo cristiana qualunque cosa sia Maria madre di Gesù è la perfezione è una vergine che partorisce sostiene con fermezza il suo bambino e sostiene il suo corpo morto quando se n'è andato e il padre non c'è non ha nemmeno fatto sesso Dio è in cielo Dio è il padre e Dio non si è presentato quindi devi essere perfetta il marito può essere un cazzone e non importa sarai sempre tenuta a uno standard diverso e superiore ed è un casino ma è così se questa puntata ti è piaciuta seguici e lascia una recensione il podcast di mamma nudo con Frida esce ogni 2 del mese di mamma nudo di mamma nudo